Il nostro amico c'è un silenzio, partecipo. Questo lo definirei il rumore ascoltante di un silenzio di 80.000 persone. La prima. Voglio dire che è andato a pisciare. Ecco signori, manca veramente poco. Angelo, si affaccia ora sulla balaputta. Si possono vedere l'aria qui. Sono proprio gli ultimi momenti di preparazione al lungo volo. Si attraverserà tutta la piatta per arrivare qui al centro. Il nostro attività è una vede dove Doge la sta aspettando. Eccola, sta ora iniziando l'operazione di scavalco della bala ultra. La vedo finalmente. Si vedono le ali. Sta per uscire il nostro angelo. Eccola, piano piano. Ora, la sede, sta per dispiegare le ali. Sono momenti di incredibile emozione e attesa. C'è un'intera piazza, un'intera città. C'è un'intera mondo. Con il caso in su. L'angelo, si affaccia una bala ultra. Non può vedere una dispiegare le ali. Una bala ultra e sull'angolo, sull'esternità. Ancoglione un passo. E inizierà la discesa. E inizierà la gente. E inizierà la gente. E inizierà la gente. singendo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.